Siamo con Tiziano Ricci, presidente della categoria alimentare di Casa Artigiani, Taranto. Ricci, lei è un amante dei social perché ritiene ovviamente il social, Facebook in modo particolare, uno strumento per interloquire, per dire la propria, anche per smuovere le coscienze. Lei ha preso una posizione che da alcuni è stata definita dura, razzista, in merito alla questione immigrati, ai respingimenti. Tutto è partito dalla nave Aquarius, allora quando il sindaco Melucci ha detto noi come città di Taranto siamo disposti ad accoglierli. Lei è stato molto duro, ha detto a Melucci pensi alle questioni di Taranto ad amministrare la città piuttosto che caricare, caricarci altre situazioni, altre difficoltà umane e qualcuno l'ha definita razzista. Ora lei vuole precisare la sua posizione. Partiamo dal presupposto che stando alle ultime statistiche i social sono diventati più importanti della TV, quindi in media la gente passa due ore e mezza sui social e due ore davanti alla TV, quindi hanno un'importanza molto molto maggiore rispetto agli anni passati. Ora, tralasciando questo, sì, io ho espresso il mio parere perché credo che, penso che, ora a Taranto bisogna pensare a Taranto, nel senso che, dato che in passato non si è pensato tanto alla propria città e al proprio territorio, credo che sia più giusto invece che pensare a delle situazioni che sono facilmente risolvibili, perché, voglio dire, Salvini, in quanto ministro degli interni, non ha fatto nulla di strano, nulla di razzista, nulla di crudele, voglio dire, ha semplicemente chiesto agli altri paesi della comunità europea, ad impienti ai trattati internazionali, di assumersi le proprie responsabilità esattamente come le abbiamo fatto noi in questi anni. Quindi non c'è stato proprio nulla di crudele, oltretutto la nave Aquarius, come altre navi erano affiancate dalle nostre motovedette, della Guardia Costiera, hanno chiesto necessità di soccorso, hanno chiesto se c'era bisogno di vivere e quant'altro non è stata data risposta, quindi, voglio dire, si creano delle polemiche inutili. Io sono stato aggredito, insultato, attaccato in tutti i modi, sui social, in mezzo alla strada, sono stato chiamato razzista, quando tu sei benissimo, mi conosci, non è così, io faccio tuttora tanta beneficenza, tante cose buone, ma sono cose che non vanno dette neanche, perché non è che io sto a specificare cosa faccio. Io sono amico di tante persone di colore, non sono omofobo, non sono razzista, zero. Quindi è l'ultima, diciamo, attribuzione che mi si può dare a me. Oltretutto il suo locale è multietnico, quindi è frequentato da persone di varia provenienza ed estrazione. Assolutamente sì, i miei locali sono aperti a tutti, non è che io faccio selezione, tu sì, tu no. È una follia, sono pure follie per creare allarmismi, per alzare i suori di polveroni, di razzismo, di fascismo, di così dire, quando non è così. È semplicissimamente arrivato il momento, scusami la terminologia, di pensare alla propria città, di pensare al proprio territorio, ai propri cittadini. Perdonatemi, l'Italia ha 4 milioni di persone sotto la sole di povertà. Ci sono terremotati che hanno perso tutto dalla vita, ancora vivono in baracche, ancora vivono senza casa, senza un tetto dove dormire. Abbiamo il 40% di disoccupazione e noi ci vogliamo permettere di accogliere ancora altri migranti. Perdonatemi, l'abbiamo fatto fino ad ora, adesso credo sia arrivato il momento di pensare un po' a noi e che sia arrivato il momento che le altre nazioni si prendano le proprie responsabilità, come abbiamo fatto noi in questi anni. Non penso che ci sia nulla di razzista e di folle in questo. Anzi, chi mi attacca forse è razzista nei confronti degli italiani, quindi persone fintibonisti e anti-italiani credo che ci sia solo da vergognarsi. Oltretutto preciso una cosa molto importante, che chi è a favore dell'immigrazione clandestina equivale ad essere a favore dell'illegalità, perché di fatto è un reato, che non vedo per quale motivo in Italia deve essere ignorato. Grazie a tutti.